Abbiamo seguito quattro ruote nella storia, manifestazione motoristica organizzata dalla scuderia Biella Corse Storiche con il ricavato a favore della Lega Italiana per la lotta ai tumori. Al microfono di partenza e di arrivo Massimo Gioggia che ha avuto modo di illustrare le autovetture circa una quarantina, gli equipaggi convenuti ai numerosi appassionati arrivati al Villaggio Aurora, sede della partenza, dell'arrivo e del pranzo con premiazione finale per le categorie che pubblichiamo su Facebook. Grazie a tutti. Cento chilometri che io faccio per te andavo a cent'alora per trovare la bimba mia Andavo a cent'alora per cantare la serenata La, 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 la La, 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 la Grazie a tutti